AWC, Portofino, eleganza e tradizione tra le onde. La collezione AWC Portofino trova la sua origine nella bellezza senza tempo di questa affascinante città genovese. Per anni, questa località è stata un luogo di incontro per personaggi di spicco. L'atmosfera che la circonda è davvero magica e coinvolgente, da cui nasce il concetto del modello AWC Portofino. Oltre ai modelli Automatic 34 e Automatic 37, disponibili in vari colori, spicca il Portofino Chronograph 39, caratterizzato da un quadrante bianco e una cassa in acciaio inossidabile. Il cinturino in pelle di vitello beige da 18 mm può essere facilmente sostituito grazie al nuovo sistema di cambio rapido, offrendo maggiore versatilità stilistica. L'AWC Portofino trova le sue radici nell'antico orologio da tasca AWC Le Pen, da cui è nato un nuovo quadrante in grado di visualizzare le fasi lunari e con dimensioni più compatte per adattarsi al polso. Nel 2014, AWC ha creato la collezione Portofino da 37 mm, utilizzando la stessa misura per la cassa per avvicinare anche il pubblico maschile desideroso di un orologio più sottile e meno ingombrante. Questo modello è noto come Portofino Automatic 37 e offre 4 versioni in oro rosso e 6 modelli in acciaio inossidabile, alcuni dei quali impreziositi con diamanti sulla lunetta o sul quadrante. Sempre nel 2014, utilizzando sempre la stessa misura per la cassa, AWC ha creato un orologio in grado di indicare le fasi lunari sul quadrante, noto come AWC Portofino Automatic Moonface 37 mm. Questa linea comprende 5 modelli molto lussuosi e luminosi, con diamanti incastonati, luna e stelle realizzate in oro bianco. Questi modelli sono disponibili anche in oro rosso, insieme a un unico orologio in acciaio e diamanti. La collezione da 37 mm della AWC continua con il Portofino and Wound Moonface Edition 150 Years, un classico Portofino a carica manuale con 8 giorni di riserva di carica e indicazione delle fasi lunari. La collezione Portofino di AWC offre una gamma di modelli raffinati, che spaziano dalla tradizione all'innovazione. Dalla sua nascita nel 1984, questa linea di orologi ha continuato a evolversi, mantenendo sempre un tocco di classe e lusso. La sua storia affonda le radici nell'antica arte dell'orologeria, incorporando le fasi lunari e offrendo prestazioni impeccabili grazie alla precisione svizzera.